il diesis dunque abbiamo già visto in un filmato precedente che cosa vuol dire la parola semitono e abbiamo visto che la somma di due semitoni forma il tono sia il tono che il semitono sono due unità di misura che ci servono per vedere quanto sono distanti le note fra di loro quanto sono distanti o quanto sono vicine adesso parliamo del diesis il diesis è questo piccolo simbolo e come lo troviamo lo possiamo trovare in due modi diversi lo possiamo trovare scritto accanto alla nota a sinistra della nota e allora in questo caso ci fa cambiare il nome della nota questo che sarebbe normalmente un re se ha accanto a sé un diesis cambia un pochino il suo nome e diventa re diesis questo vale per tutte le note un sol con il diesis accanto diventa sol diesis un la diventa la diesis vale per tutte le note e vale sia per la destra che per la sinistra vale per tutti gli strumenti musicali oltre che direttamente accanto alle note noi possiamo trovarlo all'inizio del rigo musicale all'inizio del pentagramma e in questo caso se lo troviamo scritto per una mano sicuramente lo troviamo scritto anche per l'altra e a questo punto il diesis scritto all'inizio del pentagramma ci dice una cosa attenzione ricordati durante tutto il brano che stai per suonare che quando trovi la nota su cui io sono scritto dovrai suonarla diesis cosa vuol dire io vedo che questo simbolo del diesis è scritto proprio sopra la linea che corrisponde alla nota fa anche qui per la mano sinistra è scritto sulla linea dove sta la nota fa quindi io grazie a questo promemoria mi ricorderò che ogni volta che mi capiterà di trovare un fa mentre sto suonando dovrò suonare il fa diesis ma di che si tratta qual è la differenza fra un un tasto una nota e la nota diesis è semplicissimo il diesis ci dice di spostare la nota un semitono a destra in altre parole noi dobbiamo suonare il tasto che sta subito accanto a destra rispetto a quello che c'è scritto ad esempio il re come abbiamo visto prima questo è un re naturale si chiama naturale quando è una nota sui tasti bianchi il re diesis è semplicemente il tasto che sta subito a destra è questo quindi il fatto di vedere un re diesis mi fa capire che io non devo suonare questo tasto ma al suo posto devo suonare questo questo è il re diesis cioè è un semitono a destra oppure il tasto subito accanto a destra il fa il fa naturale e questo è il fa diesis il la naturale il la diesis il do naturale e il do diesis ma le note che accanto non hanno un tasto nero cioè il si che se io mi sposto verso destra non ho un tasto nero e il mi stessa cosa come mi comporto se io devo suonare un si diesis o un mi diesis mi comporto nello stesso modo suono il tasto a destra se trovo scritto un mi diesis io devo suonare questa nota 999 volte su mille questa nota sarà sempre il fa ma può succedere una volta rarissima molto molto rara che io trovi scritto sullo spartito un mi diesis allora io so che non devo suonare questo ma il tasto che sta subito accanto a destra cioè il fa che in in quell'occasione si chiamerà mi diesis è una specie di soprannome stessa cosa se io devo suonare un si diesis suonerò il tasto accanto a destra cioè questo do che per una volta anziché do si chiamerà si diesis quindi do do diesis re re diesis mi normalmente questo si chiama fa ma molto raramente può chiamarsi anche mi diesis questo è il fa diesis sol sol diesis la la diesis si e questo che si chiama sempre do ma una volta ogni tanto molto raramente può chiamarsi si diesis la cosa veramente molto importante da ricordare è che il diesis ci sposa sempre verso destra e che ci fa suonare un altro tasto non quello scritto non ad esempio il sol ma non sul tasto bianco ma sul tasto nero e quindi